La ricostruzione delle fasi finali della vicenda umana di Giordano Bruno e in particolare quella relativa al suo rientro in Italia e al conseguente arresto che segnò l'inizio della lunga fase processuale che culminò poi nel robo, ha risentito fino ad oggi di due condizionamenti principali. Da un lato l'anticlericalismo che ha voluto individuare in Bruno da un lato e nel cardinale Bellarmino come rappresentante dell'inquisizione cattolica dall'altro due avversari che si sono fronteggiati appunto in questa vicenda e dall'altro nella difficoltà di trovare i documenti ufficiali relativi al processo che hanno costretto i biografi a utilizzare le poche carte che l'archivio segreto del Vaticano ha messo a disposizione nel corso degli anni e che consistono principalmente nei cosiddetti costituti veneti, cioè gli interrogatori a cui fu sottoposto il Nolano e al sommario del processo che fu trovato da Angelo Mercati tra le carte del Papa e che riassumeva i principali cavi di imputazione che erano stati mossi al filosofo. La carenza di documenti ufficiali che potessero gettare piena luce sullo svolgimento e sulle strategie da una parte e dall'altra ha costretto i critici, gli studiosi, anche quelli più illuminati come Luigi Firpo, il grande storico a cui si deve lo studio più approfondito e acuto sul processo di Giordano Bruno, ad elaborare delle ipotesi spesso non supportate da una documentazione inoppugnabile. Per questo motivo, non essendo emersi ulteriori documenti relativi allo svolgimento del processo, un quadro più preciso dello svolgersi di questi avvenimenti può essere adesso ricostruito attraverso l'indagine e la ricerca su alcuni personaggi che furono, diciamo così, di contorno nello svolgimento di queste vicende, ma che assunsero una importanza fondamentale per la condanna finale di Giordano Bruno. Ed è proprio in questa direzione che la storiografia bruniana si è indirizzata. Io stesso, quando cinque anni fa decisi di scrivere un libro per descrivere il colloquio avvenuto in carcere tra Giordano Bruno e due rappresentanti del suo stesso ordine domenicano, inviati dalla Corte per un ultimo tentativo di ravvedimento nei confronti dell'imbutato, mi sono imbattuto in alcuni avvenimenti collaterali che gettano una luce nuova sulla ricostruzione appunto di questa vicenda finale del processo a Bruno. In particolare, numerosi spunti interessanti emersero dalle ricerche effettuate su Ippolito Maria Beccaria da Monteregale, appunto uno dei due religiosi che furono inviati nelle carceri dove Bruno si trovava. Quanto emerso dai miei studi dimostrava che proprio Beccaria fu, durante il processo, uno dei principali accusatori e persecutori del 90. Ciò in quanto, essendo un uomo molto rigido e inflessibile, era del parere che andassero perseguiti e puniti, soprattutto i suoi confratelli che avevano arregato un disonore all'ordine, sfruttando le grandi capacità e le grandi conoscenze che proprio i Domenicani avevano loro comunicato durante i loro studi per utilizzarle per fini di eresia. Addirittura lui richiese che la tortura fosse particolarmente severa e ripetuta e che in base a ciò che l'imputato avesse confessato durante la tortura stessa fosse immediatamente giudicato. In mancanza finora di ricerche serie e dettagliate sul personaggio Beccaria, addirittura alcuni esegeti avevano ipotizzato che in realtà il maestro volesse difendere il suo confratello, asserendo che egli era convinto che Bruno non avrebbe avuto nulla di compromettente da confessare durante la tortura, il che gli avrebbe consentito di ottenere praticamente una soluzione e di scampare alla condanna. ipotesi alla luce appunto del quadro psicologico e biografico di Beccaria alquanto criticabile, innanzitutto perché Beccaria non conosceva personalmente Bruno e quindi non si vede come avrebbe potuto essere convinto del fatto che Bruno sarebbe stato in grado di resistere alle torture. Un altro particolare molto interessante e direi fondamentale, emerso dalle mie ricerche, è che proprio nel periodo in cui Bruno fu arrestato in casa del nobile veneziano Zoane Mocerigo, esattamente il 22 maggio del 1592, il polo Beccaria si trovava a Venezia. Egli aveva convocato, guarda caso, proprio dal 5 maggio al 1 luglio, il capitolo dei definitori dell'ordine domenicano. Questo fatto deve farci riflettere, in quanto, come sappiamo, Mocerigo asserì di aver preso la decisione di denunciare Bruno all'inquisizione su consiglio del suo padre spirituale, che era quel Gabriele da Salusso, Domenicano anch'egli, per cui è molto improbabile che, essendo in quei giorni presente a Venezia il polito Beccaria, questa decisione sia stata presa senza consultarlo direttamente. In definitiva, da questo e da altre evidenze emersi dalle mie ricerche, appare plausibile l'esistenza di un piano ben determinato, studiato nei minimi particolari, che parte dall'invito fatto recapitare a Bruno a Francoforte per attirarlo in Italia e prosegue per tutta la durata del processo al filosofo. L'inquisizione non ha mai perso di vista Giordano Bruno. Era al corrente di tutti i suoi spostamenti nei territori eretici, in Germania in particolare, del suo grande carisma e della diffusione che avevano le sue etene. Vero e proprio regista dell'operazione fu il cardinale Giulio Antonio Santori, capo della gerarchia ecclesiastica del Santo Uffizio, colui che richiese ufficialmente le stradizioni di Bruno da Venezia alle carceri romane, il quale era notoriamente un uomo tanto determinato nella sua azione quanto spregiudicato nell'uso dei mezzi volti a ottenere ciò che si prefiggeva. Egli si avvalse della collaborazione, come abbiamo visto, di due domenicani, Polito Beccaria e il padre inquisitore di Venezia, Gabriele da Saluzzo. Fu quest'ultimo a individuare il Mocenigo che, secondo alcune fonti, aveva ricoperto anche l'incarico di Savio all'eresia e quindi conosceva bene il padre inquisitore, il soggetto adatto per attirare Bruno a Venezia. Quindi il nobile Patrizio Veneziano fu in realtà anche egli uno strumento nelle mani dell'inquisizione. Fu lui, noto bibliofilo, e quindi in contatto con numerosi librai veneziani, a far giungere l'invito a Bruno a Francoforte attraverso appunto i librai Ciotti e Brittano che recapitarono al filosofo l'invito a recarsi a Venezia. Inoltre, probabilmente, Costoro ebbero l'incarico di rassicurare il filosofo facendogli intendere che a Venezia avrebbe trovato un clima propizio al suo soggiorno, ciò soprattutto dovuto alla estrema tolleranza e all'autonomia decisionale della Serenissima nei confronti della Santa Sede. Bruno non era uno sprovveduto. Si è voluto ipotizzare che egli tornasse in Italia per motivi sentimentali, in quanto sentiva nostalgia della sua patria, o anche per il desiderio di rientrare nell'ordine e di recarsi direttamente dal Papa a perorare la sua causa, o ancora per concorrere alla cattedra di matematica vacante a Padola, che sarà poi assegnata a Galilei. Nel corso della sua lunga peregrinazio, di insidie ne aveva scansate tante. Se si decise a rientrare in Italia fu perché i suoi nemici avevano messo a punto una macchinazione perfetta in tutti i suoi particolari. Tanto è vero che prima di accettare l'invito a stabilirsi in casa di Mocerigo, egli alloggiò per qualche mese in camera locale. Evidentemente voleva prima rendersi conto dall'esterno che effettivamente le acque fossero tranquille e egli potesse accettare questo invito. Praticamente il soggiorno in casa di Mocerigo fu una sorta di indagine preliminare durante la quale il Patrizio Veneto lo provocò in modo da fargli esporre le sue teorie, in particolare quelle più eretiche e dai contenuti più pericolosi, in modo da poterle poi utilizzare come capi di accusa. Senonché la semplice accusa di Mocerigo, seppur ben circostanziata come in effetti fu e ripetuta e corroborata durante le fasi del processo da sempre nuovi elementi, non era sufficiente, secondo la procedura prevista dai Sacri Canoni, per la condanna dell'imputato, in quanto, come noto, unus testis nullus testis, non bastava un solo testimone, tanto più quando questo testimone era mosso, come da lui stesso dichiarato nella denuncia, da una chiara inimicizia nei confronti della persona da lui accusata. Per il Tribunale Inquisitorio si poneva allora a questo punto il problema di trovare degli altri testi a carico dell'imputato. Quando Bruno comunicò a Mocerigo l'intenzione di lasciare la sua casa per legarsi a Francoforte, i congiurati dovettero temere di vedersi sfuggire per l'ennesima volta la loro preda, per cui partì l'ordine di denunciare il filosofo e consegnarlo agli sgherri dell'Inquisizione. Questo quadro apre nuovi scenari anche relativamente allo svolgimento del processo veneto e alla supposta resistenza che la Serenissima avrebbe esercitato nei confronti dell'Inquisizione romana nel consegnare l'imputato nelle loro mani. Alla luce di quanto detto, infatti, ciò deve essere interpretato soltanto come una resistenza di facciata, tanto più che la votazione decisiva che decretò la consegna dell'imputato all'Inquisizione romana si concluse con un verdetto schiacciante. Addirittura si contarono 142 voti favorevoli, 20 astenuti e soltanto 10 contrari, il che attesta che tutta questa resistenza da parte del Senato veneziano effettivamente non ci fu. Nonostante le ipotesi avanzate del mio libro non abbiano ottenuto specie negli ambienti accademici, come al solito, l'eco che meritavano, in questi cinque anni sono emersi dei documenti e sono stati pubblicati dei saggi che confermano in pieno l'impianto della mia ipotesi. In particolare, recentemente, uno studioso bruniano, Germano Maifreda, ha pubblicato un saggio sul ruolo avuto nel processo a Bruno da Celestino da Verona, che fu il principale accusatore del filosofo. In maniera precisa e circostanziata, Maifredi dimostra che Celestino da Verona, così come altri due personaggi che furono compagni di Cella di Bruno a Venezia, Francesco Maria Vialardi e Francesco Graziano, erano probabilmente delle spie dell'Inquisizione. Avevano tutti delle gravi pendenze con l'Inquisizione stessa per fatti di eresia, per cui avevano tutto da guadagnare da un'eventuale collaborazione con il Santo Uffizio e le loro testimonianze al processo furono in tutti e tre casi fondamentali per la condanna del filosofo nei confronti del quale dimostrarono un astio particolare riferendo tutte le bestemmie e le eresie che Bruno avrebbe a loro dire manifestato nel chiuso della Cella laddove Bruno dichiarò al processo che in realtà erano stati loro a provocarlo profferendo bestemmie e frasi blasfeme. Ed effettivamente dal saggio emerge che i tre accusatori ricavarono dalla loro collaborazione al processo degli indubbi vantaggi personali. Addirittura nel caso di Celestino Maifrede giunge ad ipotizzare anche in base alle modalità del processo e della esecuzione presunta del frate Cappuccino che avvenne nella più totale segretezza e addirittura durante la notte in dispregio a quanto stabilito dai sacri canoni che l'inquisizione rispettò sempre scrupolosamente dei suoi processi che Celestino non sia mai stato effettivamente bruciato ma al suo posto sia stato arso vivo o qualcun'altra. In conclusione ritengo che questo nuovo filone di studi che si è indirizzato all'indagine su personaggi ritenuti finora di contorno nell'ambito del processo a Bruno non potrà che portare ulteriori evidenze all'ipotesi che ho avanzato nel mio libro Io dirò la verità. grazie a tutti.